bella getto il tubo qui che vi parla il mini shoota e oggi sono in un nuovissimo episodio questo è un nuovissimo episodio di sansro mi sta rompendo le palle questa missione, da ieri aiuto forse l'uccidiamo, forse l'uccidiamo no ma lo faccio ma stai caracciando tutto ma dai ma va adesso io attivo il mio superpotere così se gli dai un corpo morono perché perché è così il mio potere si dai spara a quelli gialli spara a quelli gialli io ho un potere che li faccio diventa gialli ho Laura io ho Laura manco in coppia si può fare sta missione lo sai qual è il cosa oh lo sai che dobbiamo fa dobbiamo uccidere lo sai che dobbiamo fa dobbiamo uccidere quelli più grandi è che poi loro ci danno fastidio i ciccioni quelli là aia una volta aiuto si sono bacchiati stanno fermi si sono bacchiati stanno fermi no ma c'è uno che mi fa venire si bacca buono che animazione ho dato una testata a se dai le testate ai signori ti fa per cosa dai c'è un signore che sta a morire pure a me aiuto aiuto oh se c'è il bazooka quello che gli fa male grazie col mitra ho scoperto l'arma ho scoperto l'arma alle tali per quelli giganti il mitra quello piccolo quello che sta vicino le pistole quello più in basso ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso è letale l'arma è letale lo dico io no sta a voce del signore ecco manca l'ultimo credo perché si fermano quando li spari oddio no mi si è fermato no non c'ho più munizioni un po' pure a me lag oddio ma io sto rimbarzando mi stanno a fare palleggi con me stanno a fare palleggi ma se ci metti la canzone di sottofondo fondo sarà guarda me guarda a me non riesce forzarmi che mi fanno i palleggi ma lo vedi che mi stanno a fare palleggi Basta ce ne stanno due che mi stanno a rompere Se entro pure nell'uovo Basta Aiuto Non mi sto muovendo Non posso muovermi Aiuto Almeno mi vedi a me che non mi riesca a alzare Io ecco Basta se vedi Rianimami Grazie per favore Prima che moro Prima che dobbiamo ricominciare la missione Rianimami Minotare Devi vedere quel coso blu C'è presente che c'è il coso della Fiorentina? Dai sono morto per colpa tua Ma manco te stai a muove Lo sapevo tanto che non mi potevi aiutare E ora dobbiamo ricominciare da casa Perché sono morto io E' uguale ma poi si sparano ancora Basta Basta Oddio Adesso mi stanno arrivare i barbaggi in giampi Aiuto Io sto fatto Adietro Dietro di te Dietro di te Dai Devi aspettare che caschi nella lava La cosa più fortunata Devo arrivare sulla lava Devo arrivare sulla lava Aiuto Sono libero Sono libero Sono libero Scappa No Sono cascato Ti sto aiutando No Minotare Minotare Non puoi capire cosa mi hai lasciato Mi hai lasciato tre persone che mi stanno guardando male Minotare 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 Perché mi hai fatto questo Perché mi hai dovuto fare questo Oddio 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 Ogni volta che fa così vuol dire che inizia tutto da capo Oddio 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 abbiamo vinto abbiamo vinto ma se è baccato se è baccato abbiamo vinto si 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 ho fatto si ho fatto scicolo male e ci credo madonna te sei pazzo ok ragazzi per questo video è tutto ciao